Un sopralluogo per verificare la possibilità di riaprire, almeno parzialmente, il ponte per gli impianti di sellata e un presidio di ambulanza per garantire l'incolumità dei turisti. Questo il succo della riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza, riunito a potenza dal prefetto Michele Campanaro, con l'obiettivo, in vista del weekend, di evitare pericoli per gli utenti e nuove situazioni di caos. Alla provincia, competente per la SP-146, il compito di effettuare le prove di carico per verificare la possibile riapertura, anche parziale, del tratto, chiuso al traffico da mesi. Se l'esito sarà negativo, dal versante di Abriola-Pignola dovrà essere effettuato un filtro. Potranno accedere al parcheggio adiacente al ponte e al massimo 100 veicoli. Raggiunta tale capienza, si dovrà arrivare agli impianti di sellata Pierfaone, da percorsi alternativi. Chi proviene dal versante di Pignola sarà indirizzato verso Abriola per Calvello-Piana del Lago, altrimenti, dalla Tito-Brienza e dalla Fondovalle dell'Agri, l'accesso dall'uscita Marsico Nuovo. Nel pieno della stagione sciistica, a Sellata, si tenta di salvare il salvabile. È un territorio a valenza turistica, un comprensorio di grande valenza, l'unico in Basilicata che sta funzionando, e quindi dobbiamo cercare tutti insieme di fare rete per far sì che si riapre e si riporta al regime.